eh ma non va sudditi devi girare qua in seconda e poi devi mettere terza qua e va in terra devi spuolgono cazzo va se gli dai vai su eh è che perdi la concentrazione a mettere terza qua devi andare via già in terza e basta cambia decisi eh no ma qua perchè io ho messo secondo ma dopo se cambi si mazzarola c'era eh si ma qua rischi eh eh va bene di qua giugno che è a stia lui è andato su di la eh tu sei andato su di lì però di qua ti vieni la terza bastarda vieni qua sfruttala non chiudere subito vieni qua perché fai in tempo a prendere un po' di più bravo messe un mio boom allora mi butta fuori il peso mi butta fuori tutto il peso di qua e il peso perché ti butta fuori se non sei dritto si andi ti porta dove vuole non chiudere subito mi butta fuori Grazie a tutti Grazie a tutti